... Bentornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di sabato 4 gennaio. Come forse già sapete, sta una giornata di marcato maltempo in gran parte del nord e delle regioni tireniche con piogge battenti e insistenti. Tra poco entriamo nel dettaglio, un'occhiata dalle temperature, valori minimi al di sopra della media in tutta Italia per effetto di correnti umide meridionali relativamente miti. Anche le massime al centro-sud risulteranno ben al di sopra della norma, ancora una volta arriviamo quasi anche a superare i 15 gradi. Ora entriamo nel dettaglio della previsione, dicevamo giornata di marcato maltempo al nord, guardate, piogge diffuse un po' in tutte le regioni e neve, nevicate abbondanti su tutto l'arco alpino, mediamente oltre gli 800 millimetri. Nell'Italia centrale alternanza di nuvole schierite sul versante adriatico, dalle altre parti tante nuvole, piogge in particolare Toscana, Lazio e Umbria. Infine nel sud Italia sarà una giornata con situazione discreta, a parte la campagna dove nel corso della giornata arriveranno anche delle piogge. Con questo è tutto, seguiteci anche su Facebook, Twitter e Google Plus alla voce tra i bimetti.